Grazie a tutti. Come OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, oggi 1 aprile siamo in Piazza Duomo a Milano per dire basta all'uccisione degli agnelli nel periodo pasquale. È una tradizione crudele che assolutamente va contrastata. Noi con un messaggio preciso oggi vogliamo diffondere anche se non mangi l'agnello, la Pasqua è sempre la stessa. Per cui insegno della vera pace non mangiare l'agnello perché è un evento che celebra la Pasqua, l'amore, non dovrebbe essere sacrificato nessun essere vivente. Anche perché ci sono tante alternative oggi. Perché gli animali sono puri, sono esseri viventi che dovrebbero essere rispettati, non uccisi e mangiati. E l'agnello, ribadisco, è un cucciolo. Sentire la raga e il dolore a una mamma che se lo vede sbozzare davanti, a una mamma che dovrebbe essere di vera pace. Peccato che per loro... In nome della vera pace non mangiare l'agnello a Pasqua.